Ciao ragazzi in questo zaino qua c'è la mia playstation 4 rotta e cosa fare che mi con una playstation 4 rotta? Si avrete letto dal titolo ma ve lo dico comunque praticamente fingerò, entrerò dentro un centro commerciale, fingerò di rubarla e poi uscirò con nonchalance nella speranza che la guardia mi fermi e poi dai io farò qualcosa per dire no non me la puoi togliere, mi rovini il natale Sono riuscito ad entrare e non me ne ho fermato con lo zainetto perché ho fatto una provata però adesso ho la tachicardia Sto a delinquere, sto a delinquere, ho preso una playstation 4, ho preso una playstation 4 per natale, passo anch'io un buon natale Salve Salve Cosa? Lo zaino non ti ha fatto fila vero? Eh no Ma c'è il pc dentro? No non c'è niente Ma vuoi? Si se vuole che ho mangiato un po' quindi sono ho un po' lo stomaco pieno non riesco se vuole guardare No apra pure No apra pure No no va bene Ok va bene Ma fa degli acquisti? No ho mangiato un po' lo stomaco pesante No no vedo che c'è Eh ho mangiato la lasagna di nonna ieri No no poi frega un attimo dove vai? Oh la maglia vedi uno t-shirt Oh le mutande Questa Eh no no si può stare così Vieni con me Vieni con me No no stai buono Stai buono Stai buono Stai buono come vieni con me Stai buono come vieni con me Voglio giocare faccio il quattro No non faccio cazzate No non faccio cazzate Cos'è questa roba qua? Cosa? Mi era preso cazzate Cosa è questa roba qua? Dica la signora guarda venga con me lo sa lei Di chi è? Guarda prova a chiedere No no questo di chi è? Devo giocare nel hl rugby Di chi è questo? Di chi è questo? Chi è la signora guarda lasci Mi vuole rovinare il natale Ma di chi è questo? Voglio giocare al rugby Perché fa così Di chi è quella? Devo giocare al rugby Ha visto come sono bravo? Chi ha? Prendo il platino Chiama qualcuno? Ma la mia playstation E' tua di chi è questa? Me l'ha fatta rompere Di chi è questa? E' mia E poi vediamo se è tua Mi è arrivato il natale Non è tua dai Dai ma mi puoi dare E' mia Non è tua dai E' mia E' tua? E perché la butti a terra? Volevo giocare a fifa E' un gol E' fermo E' ricca Chiama qualcuno E' fermo Ma non farei piazzare adesso Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Ho ho ho, ciao ragazzi Come vedete sono sano e salvo Non troppo però Comunque voglio ringraziare tantissimo i ragazzi di IconTex Che mi hanno aiutato a fare questo video Fornendomi quest'action cam Perché altrimenti non sarei mai riuscito a fare le scene interne Io comunque ve la consiglio perché a un prezzo basso Da una risoluzione fino a 4k E non ha niente davvero che invidiare l'ElectroFusionCamp E qui mi sono trovato davvero benissimo E da ragazzi è fantastica Vi lascio il link in descrizione perché E' stupenda, ne vale la pena guardarla e comprarla Magari anche per un ricordino Natale Ma se volete comprarne una a me Perché questa qua non posso farvela vedere Perché praticamente Me l'hanno pseudo sequestrata Chissà quando la rivedrò Ma comunque noi Siamo felici perché è davvero bella E 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 noi siamo felici perché è davvero bella